scuola domani ritorno sui banchi per 200.000 marchigiani incidente sottomonte quarantenne soccorso in elia ambulanza elezioni domani arriva enrico letta ad ancona a pesaro nasce il secondo parco avventura urbano d'italia weekend gastronomici si riparte con 43 ristoranti e prezzi bloccati benvenuti al nostro telegiornale di oggi martedì 13 settembre apriamo questa edizione parlando di scuola perché mancano davvero poche ore alla prima campanella dell'anno scolastico 2022 2023 che coinvolgerà circa 200.000 studenti marchigiani scuola che a pesaro riparte con tante novità a cominciare da edifici che riapriranno le loro porte dopo anni di mancato utilizzo vediamo il servizio saranno poco meno di 200.000 gli studenti che domani 14 settembre torneranno fra i banchi delle 10.000 classi e sezioni per 233 scuole della regione marche circa mille studenti in meno dello scorso anno a fronte di un incremento di una settantina di classi e sezioni autorizzate ad attenderli ci saranno 22.800 docenti di materie disciplinari e di sostegno di cui 4.900 insegnanti assunti a tempo determinati pari al 21 per cento del totale questi numeri della regione i numeri di pesaro parlano di 6.694 studenti che domani torneranno in scuole che rivedono una parvenza di normalità dopo le tante limitazioni da covid 19 novità per gli studenti novità per gli spazi nelle scuole il presidente della provincia giuseppe paolini ha annunciato ieri il reperimento di soluzioni interne al campus per sopperire alle nove aule mancanti per quello che riguarda bramante genga e liceo marconi alcune aule saranno ricavate temporaneamente negli spazi delle biblioteche grande novità per le scuole superiori sarà rivedere gli studenti rientrare all'istituto morselli riqualificato dopo otto anni di porte sbarrate uno stabile che torna nella disponibilità del liceo mamiani morselli che alla partenza avrà ancora qualche lacuna a livello di ritocchi dell'ultima ora ma intanto si parte e riparte anche l'agrario cecchi che porta ancora le ferite del raid vandalico di inizio agosto la provincia si sta impegnando a ripristinare la situazione della scuola che più di ogni altra beneficerà di fondi pnr in arrivo cecchi che dopo il pensionamento di donatella giuliani riparte col nuovo dirigente scolastico riccardo rossini una vita trascorsa liceo marconi che da domani sarà affidato invece al nuovo preside luca mariantonio testa a livello di strutture altra grande novità sarà quella della riapertura di pesaro studi in viale trieste non solo per l'università ma anche per il trasloco temporaneo della scuola media dante alighieri in vista della demolizione prevista in ottobre novembre è il primo passo per la totale ricostruzione della scuola media ma sono davvero tanti lavori in corso o già finanziati da fondi pnr a partire dall'investimento da 600 mila euro sulla scuola di via fermi che parte dell'istituto comprensivo leopardi istituto che domani vedrà la presenza pesaro del direttore dell'ufficio scolastico regionale ugo filisetti per la cerimonia inaugurale dell'anno didattico delle scuole marchigiane ed ora passiamo alla cronaca incidente stradale questa mattina nei pressi dell'istituto alberghiero santa marta dove un'auto e uno scooter si sono scontrati per cause ancora al vaglio della polizia locale un uomo di 40 anni alla guida dello scooter ha avuto la peggio e per le ferite riportate è stato trasportato all'ospedale torrette di ancona sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per agevolare le manovre di sgombero della strada vi daremo ulteriori ragguagli sulle condizioni del ferito nei prossimi spazi informativi ed ora passiamo alla politica parliamo di elezioni perché mancano 12 giorni alla chiamata al voto del 25 settembre le marche continuano ad essere al centro dei tour elettorali dei principali candidati nazionali dopo giorgia meloni e matteo salvini domani mercoledì 14 settembre arriva nelle marche anche il segretario nazionale del partito democratico enrico letta che lancerà la corsa dei candidati dem al parlamento l'appuntamento è alle ore 18 al teatro delle muse alla stessa ora ci sarà il quarto ed ultimo appuntamento marchigiano per matteo salvini che domani alle 18 sarà al chiostro di san francesco di ascoli piceno ed ora torniamo a pesaro e parliamo del consiglio comunale perché ieri è tornato sul tavolo appunto del consiglio di pesaro il caso del parco acquatico gonfiabile sunset island che nacque nelle acque del lungomare di ponente nel 2018 e di fatto naufragò con l'arrivo della pandemia un caso che riemerge per un'interrogazione del consigliere daniele malandrino motivato a far luce sui 105 mila euro che il comune deve recuperare dopo l'acquisto della piattaforma gonfiabile da parte di pesaro parcheggi in consiglio comunale il vice sindaco daniele vimini ha ribadito la ferma intenzione di recuperare il denaro rimarcando che è stata avviata la procedura di recupero coattivo dei canoni di 26 mila euro annui che la società sunset non ha mai versato all'amministrazione una volta venuti meno i guadagni della piattaforma gonfiabile e auguriamo assolutamente migliore fortuna a pesaro avventura ovvero il parco avventura urbano che a marzo sorgerà nel quartiere di villa san martino si tratta di una tipologia di intrattenimento finora presente in italia soltanto a riccione novità che è stata presentata oggi nelle comune di pesaro vediamo parco avventura punto urbano si connota per avere una distanza al centro storico di poche centinaia di metri quindi facilmente raggiungibile con tutti i mezzi e anche in bicicletta il parco avrà tecnologia all'avanguardia di sicurezza quindi sistemi di sicurezza intelligenti 15 percorsi avventura percorsi inclusivi anche per ragazzi adulti bambini con disabilità e un'area ricettiva quindi con snack bar la possibilità anche di ovviamente per avventure che non rampicano non fanno attività di poter entrare gratuitamente rilassarsi nel bosco godendosi la giornata anche senza fare attività fisica la nostra azienda già da 15 anni si occupa di questo adesso va molto di moda quindi turismo ecosostenibile chilometro zero e il parco avventura sarà oltre che un importante presidio turistico per pesaro quindi attrarrà avventure anche dalle zone limitrufe un punto di incontro e un punto dove le famiglie potranno socializzare e far divertire i ragazzi in modo facile abbiamo percorsi anche nuovi di psicomotricità per bambini dai due a quattro anni e poi già dai 4-5 anni si potrà andare in quota fra virgolette quindi fare proprio l'attività di tarzaning e con varie sfumature vari livelli di difficoltà dal facilissimo al difficilissimo con anche due tre nuove nuovi brevetti dalla nostra ditta quindi giochi molto molto particolari di qui al momento non sveliamo non sveliamo troppo però costi molto agevolati per i residenti per le persone del posto che potranno fare l'abbonamento stagionale annuale con una cifra molto bassa una trentina di euro per fare ingressi limitati tutta la stagione e poi costi che vanno dai 9 euro per il baby ai 24 euro per l'estremo quindi comunque costi che poi fra l'altro non sono soggetti ad aumenti improvvisi dovuti a mettere prima l'energia perché l'energia sono le calorie bruciate in quota dai nostri clienti siamo orgogliosi era un'iniziativa che stavamo provando a portare avanti da diverso tempo come amministrazione comunale poi grazie alla disponibilità di un'area privato e alla lungimiranza della San Marina Adventure Pesaro avrà questo bel parco avventura marzo 2023 siamo nell'area nel quartiere di Villa San Martino di fronte casa VL di fianco alla scuola primaria Don Bosco quindi veramente un parco nel cuore della città in un luogo che è sempre più città dello sport perché sono tanti gli impianti sportivi che offre diciamo quel quartiere quella zona una vera città della dello sport ma anche un luogo che ha tanti servizi educativi quindi penso che sarà una bella cosa per la città di Pesaro per i cittadini e poter vivere all'area aperta sfruttare gli alberi e sfruttare quelle che sono le bellezze della natura non sono invece una novità ma una tradizione che dura da 39 anni pensate i weekend gastronomici d'autunno pronti ancora una volta a far assaporare il gusto tipico del territorio con menu a prezzi promozionali. Un periodo importantissimo per il turismo e l'inogastronomia l'autunno soprattutto in una provincia come la nostra che può vantare tanti prodotti di qualità però giustamente diceva un periodo pieno di incognite perché siamo alla fine di una stagione estiva che ha determinato certo tanti turisti ma anche tanti costi aggiuntivi per l'impresa a cominciare dalla bolletta energetica tant'è che proprio per i weekend gastronomici voglio rivolgere un ringraziamento particolare ai 43 ristoratori che hanno aderito all'iniziativa perché è stata ideata nel mese di gennaio e i prezzi sono stati imposti nel mese di gennaio 22 euro e 25 euro compiati a base di tartufo quando ancora non c'erano questi aumenti così esorbitanti non solo del gas e delle energie elettriche ma di tutto dai prodotti alimentari alla carta alla lavanderia industriale eccetera e quindi avere mantenuto questi prezzi merita veramente un ringraziamento ai ristoratori è un invito ai consumatori questa è un'occasione unica per partecipare nell'entroterra della provincia di peso urbino gustare prodotti di qualità piatti tipici straordinari a un prezzo stra promozionale lo è normalmente promozionale quest'anno lo è ancora di più si svolga in autunno in cui diciamo il nostro territorio è particolarmente ricco e vario perché in questo periodo ci sono i funghi ci sono i tartufi anche se la siccità è stata un po' diciamo cattiva nel dare le acque a questi prodotti però sembra che in qualche modo i primi funghi iniziano ad uscire adesso e il tartufo probabilmente qualcosa ci sarà da qui in avanti e un territorio ricco di storia di tradizioni di cultura perché voglio dire è sempre il territorio della cacciagione dei salumi delle verdure e adesso soprattutto con i boschi ci sono si possono essere delle grandi sorprese soprattutto quello che ci auguriamo è che da settembre in avanti la gente continui a girare e uscire come ha fatto quest'estate che è stata un'estate molto buona dal punto di vista turistico e ci auguriamo che questa iniziativa dia un impulso per poter continuare questa cosa. Un evento importante perché la banca Riviera Banca è una banca di credito cooperativo che guarda con molta attenzione al territorio è una banca che affianca la tradizionale attività bancaria anche un'attività sociale mutualistica di prevenzione e cura della salute soprattutto di valorizzazione dei territori e quindi un'iniziativa di questo tipo che si rinnova ogni anno e serve non soltanto per come dice la parola weekend gastronomici ma anche per la valorizzazione dei nostri territori per rivalutare anche paesi, borghi, centri storici che altrimenti non avrebbero quella conoscenza e quella visibilità che invece con questi eventi possono avere. Quindi una banca di credito cooperativo non può non essere vicino a queste realtà. A Villa Borromeo di Pesaro parte giovedì 15 settembre alle 18.30 il ciclo di incontri dal titolo diabete ieri, oggi e domani sfide e cure per il benessere della persona. Nove appuntamenti da giovedì fino a dicembre organizzati dall'Associazione Diabetici di Pesaro per sensibilizzare alla prevenzione e cura di questa patologia. Il primo appuntamento di giovedì si intitola la gestione del diabete 1 nell'adulto e vedrà come relatore il direttore del dipartimento di diabetologia di Asur Marche Rosa Anna Rabini e il direttore di Asur Marche Nadia Storti. Il celebre cantante Max Pezzali sta festeggiando in questo 2022 30 anni di carriera e ha scelto la vitrifrigo Arena di Pesaro come data zero del suo tour nei palasport italiani dal titolo Max 30. Il concerto fissato per il 26 novembre si aggiunge ad un palinsesto di date italiane già in gran parte sold out per il pubblico pesarese. I biglietti saranno in vendita sui circuiti Ticket One e Clap It. E continuiamo invece adesso a ricordarvi gli appuntamenti dell'International Police World Arts Festival che si sta tenendo per la prima volta a Pesaro e che domani mercoledì 14 settembre prevede al teatro sperimentale dalle 16 alle 20 la proiezione dei film finalisti del concorso cinematografico internazionale legato al festival. Alle 17.30 a Palazzo Mazzolari Mosca ci sarà invece l'incontro con la scrittrice Sara Lucaroni autrice del libro Il buio sotto la divisa. Mentre alle 20 al teatro sperimentale Tony Capuozzo presenterà Balcania l'ultima guerra europea volume del popolare giornalista Mediaset che per dieci anni ha seguito da inviato i conflitti dell'ex Jugoslavia. Ma vi ricordiamo anche le serate di questa sera perché la serata di questa sera prevede alle 21 al teatro sperimentale la prima del documentario Siamo qui siamo vivi che racconta la storia di Alfredo Sarano e della sua famiglia scampati alla Shoah. Un'opera tratta dal libro di Roberto Mazzoli prodotto da Armand Giulian e diretto da Daniele Ceccarini. Alle 21.30 invece sempre al teatro sperimentale la proiezione del film Ariaferma vincitore di due nastri d'argento e di due davidi di Donatello diretto da Leonardo di Costanzo. Saranno presenti Tony Servillo e Silvio Orlando. Ed ora dal cinema passiamo alla tv perché c'è davvero un conto alla rovescia mancano pochissime ore alla puntata di questa sera perché questa sera torna sugli schermi di Rossini TV la seconda edizione di Green Tour. Alle 21.20 potrete infatti vedere la prima delle cinque nuove puntate della seconda stagione del nostro format alla scoperta dell'entroterra e curato e condotto da Nicoletta Tagliabracci. Prima puntata in cui vi porteremo a conoscere San Lorenzo in campo dalle sue bellezze alle sue chicche enogastronomiche. Green Tour vi farà compagnia anche per i prossimi quattro martedì sempre alle 21.20 in cui andremo a scoprire anche Colli al Metauro, Borgo Massano, Apecchio e Frontino. Ed ora andiamo a parlare di sport, abbinare con profitto risultati sportivi e risultati scolastici. E' questa la filosofia alla base delle tre borse di studio che domani a Vallefoglia la società calcistica K-Sport di Montecchio assegnerà ai tre giovani più meritevoli del territorio comunale. Un'iniziativa che ci viene illustrata dal presidente della K-Sport Enrico Tiboni. Vediamo. Siamo con l'avvocato Enrico Tiboni, presidente della K-Sport Montecchio, società sportiva di calcio di nuovo, protagonista di una importante serata che unisce i valori dello sport ai valori dell'istruzione. La consegna di borse di studio, l'annuncio dei vincitori delle borse di studio per quella che è un'iniziativa che andiamo a capire meglio come è strutturata. C'è un regolamento e questo regolamento permette a coloro che sono residenti nel comune di Vallefoglia oppure coloro che sono iscritti in una società sportiva di Vallefoglia di partecipare a questa borsa di studio. Una prima edizione c'è già stata nel 2019, andiamo a premiare comunque sempre i ragazzi più meritevoli. 2019 ha avuto successo ma l'ha avuto anche questa campagna di candidatura, avete avuto un buon numero di riscontri? Sì, diciamo che abbiamo inoltrato le domande a tutte le società sportive. Le società sportive sono state brave a rispondere, hanno segnalato per ogni società sportiva tre candidati e ogni società sportiva nel segnalare i candidati dovevano fare una relazione di questi tre candidati mettendo in evidenza le partecipazioni, le presenze, le prospettive future, i risultati che hanno avuto questi ragazzi dal punto di vista sportivo agonistico nonché alle gare alla pacella di scuola. Quindi noi poi tramite una commissione che abbiamo fatto, abbiamo fatto una media dei risultati sia sportivi sia una media dei suoi risultati scolastici. Alla fine andiamo a eleggere i tre candidati, però andiamo a eleggere i tre candidati ai quali verranno consegnati degli assegni, cioè una borsa di studio e quindi al primo 800 euro, al secondo 400 euro e al terzo 200 euro. Tutti quanti, circa 25 ragazzi, sono già ragazzi selezionati, sono già eccellenze del nostro territorio. Un grande ringraziamento va alla famiglia Conti, alla Teresa e a Corrado, genitori di Teto, i quali hanno contribuito, anzi hanno sponsorizzato l'edizione, sia questa sia la prima edizione e avevamo un ringraziamento speciale perché sono stati coloro che ci hanno permesso di realizzare la borsa di studio. Il fattore economico è grazie a loro. E dunque l'appuntamento è per giovedì 15 settembre in quella che tra l'altro sarà l'apertura della Sagra della Polenta a Vallefoglia. Sì, infatti siamo d'accordo con quelli della Proloco, loro fanno la Sagra della Polenta per quattro giorni e praticamente giovedì, venerdì, sabato e domenica e il giovedì ce l'hanno riservato a noi per fare questa premiazione della borsa di studio. Contemporaneamente nella serata, siccome che sono, come dicevo, anche presidente del K-Sport Montecchio, ho ritenuto fare la presentazione insieme ai collaboratori della società sportiva, che saranno presenti quella sera, di fare la presentazione della prima squadra. Prima squadra che è in promozione, una prima squadra che è stata allestita anche per fare bene, quindi adesso vediamo. Ed ora altre notizie di sport. La Megabox Vallefoglia ha annunciato nella serata di ieri le sorprendenti dimissioni di coach Fabio Bonafede per motivi personali e familiari che comporteranno una sua temporanea in disponibilità dalla panchina. La società del presidente Angeli ha annunciato il dispiacere per la decisione che porta la Megabox ad affidarsi ora al vice allenatore Andrea Maffricci. Dalla pallavolo al calcio a 5 vi ricordiamo l'appuntamento gratuito di questa sera al Palafiera di Pesaro con We The Champions, una partita amichevole che celebrerà il dominio del calcio a 5 marchigiano nell'ultimo anno. Quello dell'Ital Service Pesaro che ha vinto campionato Coppa Italia e Supercoppa a livello maschile è quello della città di Falconara che ha fatto altrettanto a livello femminile. Le due squadre si ritroveranno questa sera a Pesaro fronteggiandosi in un'amichevole a squadre miste fra uomini e donne dallo spettacolo assicurato. Passiamo al calcio ricordandovi che dopo la prima vittoria stagionale col Renzuola di domenica la Vis Pesaro torna in campo già domani alle ore 18 nel primo turno infrasettimanale che la impegnerà nella lunga trasferta di Olbia. E concludiamo questo lungo spazio dedicato allo sport locale con la Fiorini Pesaro Rugby che ha presentato la sua squadra 2022-2023 pronta ad un altro campionato in Serie A. Era la stagione 2018-2019 quando la Fiorini Rugby Pesaro trionfava ottenendo la promozione in Serie A. Da quel campionato sono passati tre anni, un periodo in cui il Covid ha disturbato a dir poco il normale svolgimento delle ultime tre stagioni della palla ovale. Per i kiwi giallorossi infatti alle porte il primo campionato completo in Serie A che li vedrà protagonisti sin dal debutto fissato il 2 ottobre a Roma sul campo della polisportiva Lazio Rugby. Per assistere alla prima casalinga bisognerà invece aspettare circa un mese per la sfida in programma il 9 ottobre contro la neopromossa Primavera Rugby. Un campionato equilibrato e avvincente, formato da 11 squadre di cui 4 laziali, con trasferte lunghe e dispendiose come ha commentato l'allenatore Augusto Allori. Le aspettative secondo me sono alte perché vogliamo fare meglio l'anno scorso, vogliamo alzare un po' l'asticella. Cambia che sia un campionato vero nel senso che ci sarà la discesa quest'anno di categoria per quello che finisce ultimo che l'anno scorso non c'era quindi ci sarà la pressione di vincere sicuramente, quindi in quel senso troveremo partite molto difficili. L'altro aspetto che cambia parecchio è che ci sono tante squadre nuove. Rispetto all'anno scorso quelle più vicine a noi sono passate i gironi, sono andate a giocare i gironi nord e noi avremo parecchi trasferti a Roma. Partiamo che è una preparazione molto corta perché il campionato inizia presto. Direi che nella mia esperienza personale non ho mai preparato una squadra così in tan poco tempo, però come ho fatto un ottimo lavoro di off-season e di pre-season le aspettative sono buone, i ragazzi sono molto disponibili e a livello tecnico penso che abbiamo una buona organizzazione, non partiremo al 100% ma tutte le squadre partono nella stessa linea, quindi penso che abbiamo fatto un'ottima preparazione tutto sommato. Non è un obiettivo ovviamente quello di vincere il campionato perché non pensiamo di essere ancora pronti per un passaggio di categoria. È un obiettivo di medio termine sicuramente, per cui in questo campionato ci interessa migliorare le prestazioni di quello precedente, un passo alla volta. Quindi migliorare le prestazioni di quello precedente significa provare a entrare tra le prime tre della prossima classifica finale. È un percorso non facile, il nostro campionato è molto agguerrito, con squadre molto ben organizzate e anche con progetti ambiziosi di vertice della classifica. Vedremo subito di che pasta siamo fatti noi, già dopo le prime tre partite e sapremo se questo obiettivo è un obiettivo alla nostra portata o se dobbiamo invece ridimensionare questa aspettativa. Questo è un segnale che ci conferma che quello che stiamo facendo è positivo, che dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione e puntare ad accrescere il pubblico. Riusciremo a dare una risposta di maggior accoglienza al pubblico da quest'inverno perché il Comune di Pesaro ci ha già garantito un intervento di copertura della tribuna e questo ci darà la possibilità di poter ospitare anche in condizione di maltempo il pubblico senza che si bagni. E allora davvero complimenti alla Pesaro Rugby e noi di Rossini TV siamo media partner e quindi su Rossini TV vedrete le partite di questa società sportiva pesarese. Ed ora invece andiamo a ricordarvi che questa sera in prima serata c'è la prima puntata di Green Tour, andremo a San Lorenzo in campo alle 21.20 quindi tutti collegati sul canale 80, ci potete vedere anche in streaming sul nostro sito oppure direttamente nella nostra applicazione. Segnatevi le repliche per vedere insomma quando potrete rivedere appunto questa puntata su Rossini TV. E poi domani la nostra rassegna stampa in diretta alle 7.20 vi aspetto, saremo in diretta sul canale 80, sul nostro sito, sulla nostra applicazione e sulla nostra pagina Facebook. Ho detto davvero tutto carissimi amici, adesso vediamo assieme come sarà il tempo per i prossimi giorni, io intanto vi auguro una buona serata.